Appassionati di calcio, siamo nella sede dell'Olympic rossanese, presentiamo l'ultimo giocatore in ordine di tempo arrivato in maglia rosso-blu. Siamo con Giuseppe Benincasa, per gli appassionati c'è poco bisogno di presentarti, ma sicuramente stiamo parlando di un centrocampista di altissimo spessore con più di 400 partite tra Serie C e Serie D che ha sposato questo progetto olimpic. Allora, con quanto entusiasmo arrivi qui allo Stefano Rizzo? Sicuramente con grande entusiasmo, ho sposato il progetto della società, una società importante, una squadra importante che ha tradizione, ha blasone quindi per me è stato facile scegliere una piazza come Rossano. Ho tanta voglia di fare bene insieme con i miei compagni e sarà il campo a dimostrare tutto ciò perché parole se ne possono fare tante, presentazioni all'inizio, però quello che conta è il verdetto del campo e il risultato del campo. Allora, in tutti questi anni parlavo di 400 e più partite con maglie importanti, hai sempre fatto parlare il campo, quindi insomma questa intervista sarà breve ma comunque è un giocatore ben in casa che è arrivato qui, non diciamo per il definitivo salto di qualità però certamente molti contano su di te, sia i tuoi compagni che i nuovi tifosi che la dirigenza. Una responsabilità un po' in più ma per un giocatore esperto ci sta. Sì, sicuramente, per me rientra nella normalità avere delle responsabilità, comunque il mio obiettivo è quello di dare una mano a questa squadra portando esperienza, tutto il mio bagaglio per cercare di dare dei risultati positivi alla società e soprattutto ai tifosi. In conclusione, che idea ti sei fatto della tua nuova squadra, visto che magari qualche giocatore lo conosci? Conosci anche il campionato di eccellenza, pensi che questa squadra, ormai la tua squadra, possa essere competitiva a lottare per i piani alti? Sicuramente, altrimenti non avrei sposato questa causa. Conosco la maggior parte dei calciatori, sono calciatori validi, alcuni anche se hanno fatto la promozione l'anno scorso, una categoria inferiore, però, secondo me, sono nettamente di categoria superiore anche all'eccellenza. Quindi, sono tutte componenti che ci devono far fare bene quest'anno. Benvenuto qui con la maglia dell'Olympic, benvenuto allo Stefano Rizzo e in bocca al lupo. Crepe il lupo, grazie. Grazie.